Siamo ai Nars di partenza, pochi giorni ancora e poi il via alla splendida divertente chermesse di musica, allegria e birra. Il parco urbano di San Marzano sul Sarno è già quasi pronto per accogliere le migliaia di persone che vorranno divertirsi, bere una bibita fresca e trascorrere una serata in allegria. L'Octonia Festa è sulla rampa di lancio, il 29 giugno è la data di partenza dalla quale per sei giorni si potranno trascorrere serate fra canti, balli, birra e tanto altro ancora. Una manifestazione bella, sana, che coinvolge tante persone, ma soprattutto è trasversale perché dall'anno scorso dove nel parco abbiamo avuto la possibilità di offrire anche il servizio delle giostrine che non gestiamo noi ma che sono presenti, fino alle persone più adulte che vengono, ascoltano tanta buona musica perché pare quasi che sia diventato un vero e proprio festival perché abbiamo degli artisti importantissimi e tante cose buone da mangiare. Noi siamo al lavoro costantemente da quasi un anno ormai, da quando abbiamo completato l'edizione precedente, per offrire una struttura che possa essere, noi la definiamo, un locale all'aperto. Venite, ci sarà tanto divertimento ma ormai nell'agro siamo famosissimi e non solo perché la festa ha sconfinato in quasi tutta la regione. Vi aspettiamo dal 29 giugno al 4 luglio al Parco Urbano di San Marsano sul Sarno per questa meravigliosa edizione di Ocdoria Fest 2018. Il 29 cominciamo con Andrea Sannino che è in questo momento sulla bocca e sulla testa di tutti e quindi sarà un grande inizio e continueremo poi con la maschera, un bellissimo gruppo napoletano, ci sarà Tony Tamaro che ritorna questa volta con l'intera band per fare il concerto, Gerardo Amarante, penso abitabile anche lui che ritorna con i Bottari e la new entry di quest'anno soprattutto importante è Edoardo Bennato. Invitiamo soprattutto a tutti i birraioli che ci seguono costantemente già da 8 anni a venire ad assaggiare la tappalista di quest'anno che sarà composta da 30 birre tra artigianali e birre alla spina. Avremo delle chicchette proprio particolari perché arriveranno i birrai di questi birrifici direttamente dal Piemonte, Toscana e addirittura uno dei founders dagli Stati Uniti. Qualcuno mi ha parlato di Miezi e Sound. Non lo conosce quasi nessuno. Diciamo che l'ha sentito mangiare. Siamo Miezi e Sound ad Anglia, da qui parte l'organizzazione per l'Ocdoria Fest. Vi aspettiamo tutti dal 29 giugno al 4 luglio. Noi ci saremo, come credo anche voi, per bere un bel bicchiere di birra insieme. Ciao! 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 Grazie a tutti